A Roma sono stati intensificati i controlli della Questura e attivate le squadre anti-sabotaggio che lavorano per garantire la sicurezza delle sedi diplomatiche. In seguito alle ultime segnalazioni riguardanti le minacce terroristiche nei confronti di obiettivi statunitensi, la Questura di Roma ha predisposto l'intensificazione dei controlli che impegnano giornalmente tutte le forze di polizia della capitale. In particolare, oltre agli obiettivi istituzionali, è stato dato ulteriore impulso ai servizi di prevenzione e dai dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, soprattutto nei confronti di sedi diplomatico-consolari ed altri obiettivi e interessi ad essi riconducibili. Monitorati dagli agenti di polizia, coaduati anche dalle unità cinofile e squadre anti-sabotaggio, i numerosi cunicoli e tombini nei prezzi di obiettivi sensibili, soprattutto nelle vicinanze delle sedi diplomatiche ed in particolare dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. Le attività di prevenzione imposte in essere giornalmente garantiscono l'immediato intervento delle forze dell'ordine in caso di qualsiasi condizione di criticità. Grazie per la visione!